Per me è una gold explosion perché è una tonalità che mi affascina da sempre. Sa unire bellezza, forza e luminosità. È un po' come l'emozione che ti dà la luce del sole. Sono convinta che l'oro sia proprio audacia, opulenza, fascino e sicuramente è il simbolo e la rappresentazione della femminilità. Ditemi voi se tutto questo non è donna. E il suo profumo è Gold for Hair di Laura Biagiotti. In verità sono due le note che mi hanno ipnotizzata fin dalla prima volta in cui ho provato Gold for Hair. E sono tuberosa e ylang ylang, due fiori bianchi che sono l'emblema di una magnetica opulenza. Una fragranza così non l'avevo davvero mai provata. La Maisonne Laura Biagiotti con Gold for Hair ha scolpito nell'oro l'iconico flacone di Forever. che riproduce il simbolo dell'infinito, un'ode preziosa alla luce. In realtà li amo tutti e tre in modo differente. Forever Touche d'Argant è fresco e metallico, diciamo per una mattinata di sole. Forever che è caldo e gourmand per una serata speciale. E Forever Gold for Hair per i red carpet e per le serate più importanti. E Forever Gold for Hair per i red carpet e per le serate più importanti. Grazie.